amici di robe mie buongiorno mi trovo davanti all'entrata dell'abbazia di monte cassino eccola qui dietro di me la trovate sull'autostrada del sole tra roma e caserta ragazzi soltanto il fatto di venire qua sopra vi dico che ne vale la pena già per i panorami che si vedono dalla strada adesso andiamo dentro e vediamo un po di raccontarvi tutto quanto ragazzi mi trovo all'ingresso della abbazia oggi una bella giornata per cui penso che si vedranno delle belle cose è stata ricostruita dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale guardate che grande che è e qui c'è l'ingresso principale che dice benvenuti nella casa di san benedetto guardate questo chiostro fantastico allora ragazzi questa è una parte della vista che si vede dall'abbazia di monte cassino guardate che roba una cosa eccezionale e questa è l'abbazia e questo è l'ingresso che porta poi su alla basilica che è là in alto con questa bellissima scalinata adesso vado su e vado a vedere la chiesa san benedetto e santa scolastica le due statue che ci sono qua ricordiamoci che san benedetto è il patrono dell'europa bene sto salendo la scalinata che porta su verso la basilica ecco un silenzio eccezionale anche perché mattina presto hanno aperto da poco per cui non c'è ancora praticamente nessuno guardate benedicti lumina e santa questo è il chiostro dei benefattori vedete e qui si entra nella chiesa guardate che bello questo portale con tutte queste iscrizioni e adesso entro nella chiesa che a dir poco meravigliosa guardate che roba guardate che spettacolo fantastica adesso vado a vedere tutte le cappelle della chiesa qui c'è un bellissimo presepio tra l'altro guardate questa natività la sacra famiglia manifattura napoletana seconda metà del diciottesimo secolo vedete guardate che roba 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 Grazie. Qui c'è il sepolcro dei Santi Benedetto e Santa Scolastica, guardate, è proprio sull'altare maggiore, vedete. Sto entrando nella cripta della Chiesa della Nazionale di Monte Cassino, appunto. Vedate che soffitto di mosaico tutto a stelle. Vedete, qui abbiamo proprio sotto la cripta dove c'è... dove ci sono proprio i Santi che sono sepolti proprio qui sopra, vedete. Questa è la Sacra Stilla. Eccomi di nuovo fuori. Bene, questa è la vista del chiostro principale e anche di quello che è un po' dell'abbazia con tutte le montagne che ci sono sotto. Guardate che roba, guardate che meraviglia. Bene, qui c'è un altro chiostro. È grande il posto, è grandissimo, guardate. veramente incredibile, di grande che è. Guardate che roba. Bene, ragazzi, sto uscendo. Guardate il panorama che c'è qua sotto. Abbazia di Monte Cassino. Abbazia di Monte Cassino. Guardate in